Caffè Blu, il bistro radiofonico e televisivo che vi tiene compagnia con tanta musica e con spunti e stimoli quotidiani che vogliono nutrire il vostro senso della meraviglia e quando parliamo di senso della meraviglia parliamo ovviamente anche di spettacolo o spettacoli al plurale ed è un piacere per me andare a presentare la prima edizione di un festival tutto al femminile, il Pagliacce Festival che si tiene dall'11, da venerdì 11 di novembre fino al 20 di novembre al bunker di Torino. Abbiamo con noi per parlare di questa iniziativa di clowneria tutto al femminile Martina Solagna. Buongiorno Martina! Ciao a tutti, buongiorno! Ciao, ben arrivata nel nostro bistro di RBE Pagliacce Festival. Innanzitutto andrei un attimo a capire chi è che l'organizza. So che ci sei tu ovviamente come compagnia alle due e un quarto ma c'è un vero e proprio network, il Pagliacce Network, è vero? Sì, diciamo che la regia di tutto l'evento viene portata avanti dal network Pagliacce che è un network italiano, il primo network di donne clown italiano che abbiamo creato da un anno solo e che raduna circa una novantina di artiste e compagnie di donne clown professioniste da tutta Italia, anche dalle isole. Meraviglioso! E quindi dall'undici, da venerdì prossimo fino al 20 di novembre potremo assistere a questi spettacoli, spettacoli organizzati nell'ambito di questa rassegna che coinvolge artiste italiane ma anche internazionali? Sì, abbiamo il piacere di ospitare alcune artiste di caratura internazionale molto conosciute. Vi cito diciamo le tre VIP che saranno ospiti al festival, ovvero apriremo l'undici novembre con Giovanna Bassi, ci sarà poi a seguire il sabato lo spettacolo di Ilari Chaplin e poi invece il sabato diciannove sarà ospite qui la grandissima Gardi Utter. Quindi insomma tutta una serie di spettacoli che potremmo trovare sul sito le2unquarto.it slash pagliacce oppure ovviamente anche sui social di Pagliacce Network. Dicevamo da venerdì 11 fino al 20 di novembre al bunker di Torino, uno spazio, un incubatore di idee meraviglioso che offre sempre tanti spunti. È vero che ci sarà uno sciapitò vero e proprio, quindi il circo che potremmo vivere anche con il classico tendone da spettacolo e da circo, vero? Sì, sarà montato proprio al bunker il tendone del circo Madera che ospiterà l'evento, che è un tendone di circo contemporaneo, quindi stiamo parlando appunto di circo senza animali ed è un tendone meraviglioso che può ospitare fino a 198 persone, insomma, quindi sarà sicuramente un'esperienza intensa, diciamo. Ecco, a proposito di esperienza intensa, quello dell'esperienza delle pagliacce, della Pagliacce Network, quindi di questa rete, Martina, offre anche tutta una serie di servizio perché immagino che ci siano anche delle mamme, per esempio, tra le pagliacce. Sì, hai proprio centrato uno dei punti fondamentali che è proprio un po' la mission di questo network, cioè valorizzare, promuovere e ispirare le artiste pagliacce, ma anche appunto le artiste madri, offrendo una serie di servizi nel nostro piccolo, diciamo, che agevolano dal punto di vista professionale queste artiste, quindi dal supporto, per esempio, che possiamo dare a livello digitale, con degli incontri organizzati con delle consulenti del lavoro per gestirsi appunto tutta una serie di, la parte più amministrativa, diciamo, di quella che è la nostra professione, ma per esempio durante il festival saranno accolte le artiste mettendo a loro disposizione, per esempio, delle babysitter e delle aree speciali per i loro bimbi, mentre che le mamme lavorano. Meraviglioso. Gli spettacoli del Pagliacce Network, Martina, dove possiamo trovare tutto il programma? Diciamo solo, anzi ripetiamolo, comunque sottolineiamo con quale spettacolo si aprirà il festival e come possiamo procurarci i biglietti. Sì, allora il festival si apre l'11 novembre alle ore 18.30 con la conferenza spettacolo di Giovanna Bassi e poi appunto a seguire ci sono anche altri spettacoli, tra cui un cabaret di una decina di artiste tutte donne, sempre il venerdì sera. Rispetto ai biglietti e alla programmazione completa, dove potete trovare anche altri appuntamenti per i bambini e anche appuntamenti gratuiti oltre agli spettacoli, trovate tutto sul sito ledueunquarto.it alla voce Pagliacce, oppure sui social, noi siamo molto attive, basta andare su Instagram o su Facebook e digitare Network Pagliacce e trovate tutto. Direttamente dal sito e dai social si può accedere anche al link alla pagina per acquistare i biglietti. Martina, oltre agli spettacoli con un biglietto che è possibile evidentemente anche procurarsi online, tutti i riferimenti sul vostro sito, ci sono anche degli appuntamenti gratuiti quindi? Sì esatto, ci sono degli appuntamenti gratuiti dedicati ai bambini e alle famiglie, vi ricordo in primis il Biblio Clown che è un appuntamento di letture legate al mondo del circo e al mondo del clown e è in previsione anche per la domenica 13 novembre una visita gratuita all'interno del circo in cui scopriremo anche un po' il backstage del mondo del circo, quindi faremo visitare anche tutta la parte legata alla tecnica, dietro le quinte, insomma racconteremo un po' di aneddoti legati al circo contemporaneo. Meraviglioso, ci sarai anche tu Martina? Assolutamente sì, io sarò sempre lì ad accogliere pubblico, operatori e pagliacce e pagliacci e poi io farò parte anche del cabaret appunto che è previsto per il venerdì 11 novembre e per la chiusura del festival la domenica 20 novembre, un grande cabaret con tantissime artiste in scena. Dall'11 al 20 novembre al bunker di Torino, il pagliacce Network, tutte le indicazioni ricordiamolo ancora sulle 21 quarto.it slash pagliacce sul web, quindi sui motori di ricerca vi basta digitare pagliacce Network oppure appunto sui social, Instagram in particolare. Martina, in bocca al lupo, viva il lupo per il primo festival dedicato alla cloneria al femminile, è stato un piacere poterlo scoprire, Martina Soragna con noi, a presto, buon lavoro, ciao! Ciao, grazie mille, vi aspettiamo! Ciao, ciao! Da guardare, da ascoltare